La Gobetto festeggia 50 anni quest'anno al fuorisalone e dà un esempio di come le resine non abbiano veramente confini e limiti alla fantasia. Sì, tutti pensano che le resine siano un'invenzione recente. Bisogna ricordare che nascono già negli anni 50 per produrre barche aerei. In particolare per la Gobetto mio padre conobbe in quegli anni un ingegnere americano che produceva barche aerei e pensò di utilizzare questa resina per applicazioni di pavimenti industriali. Nasce così il Monosynth. Più recentemente c'è stato proprio un trasferimento tecnologico alle pavimentazioni civili e residenziali. Quindi questa resina che ha avuto un grande successo nel campo industriale approda appunto nel civile residenziale. Questo è importante perché la resina ha una logica industriale. In particolare in questa esposizione presentiamo vari materiali. Abbiamo introdotto questo nuovo modulo a cerchio che non ricorda la piastrella classica ma lascia intendere che la resina è utilizzata anche per il design. Di come si fa a unire una tradizione di prodotto industriale con la creatività? Questa è una cosa che ci è voluto 50 anni. La cosa è avvenuta a piccoli passi soprattutto anche nata dall'interesse degli artisti verso questo materiale. Chi avete che ha lavorato per voi? Qui abbiamo Alex Turco che è un designer famoso. Abbiamo Ballantini che è il famoso presentatore di Striscia la Notizia che fa Valentino eccetera. Qui abbiamo Ludmila Archenko e abbiamo Mari Camoro con queste foglie con le mani inserite dentro. C'è la mano di mio padre fotografata resinata con la forma della foglia. Quindi dal pubblico del fuori salone cosa vi aspettate che capisca di più sulle resini? Ci aspettiamo che ci sia interesse da parte soprattutto dei giovani. Noi siamo molto interessati agli architetti e designer giovani perché non ha confini questo materiale, ha possibilità infinite.